In passato era il posto delle spie, ora ospita la più grande pista di ghiaccio in Europa. Il parco Gorky, recentemente rinnovato, è diventato il cuore high-tech di Mosca. Ritrovo della generazione hipster, ma anche luogo di svago per le famiglie. Con l'abbassarsi delle temperature, ormai nella capitale russa la colonnina è scesa sotto lo zero, sono state allestite le piste di pattinaggio. Siamo passati dai 15.000 m2 dell'anno scorso ai 18.000 di quest'anno. La pista si estende intorno alla piazza della Fontana. Penso che sia un ambiente perfetto per pattinare. Si può girare intorno alla Fontana e percorrere questi romantici vicoli. Una scuola di pattinaggio artistico, un campo da hockey, la passerella panoramica lunga 400 metri, completano una struttura faraonica voluta dalla nuova elite moscovita. Un parco anche tematico, questa stagione è dedicata alle illusioni.